Primo colpo di scena ma subito Igor Font si lancia su Ismos Fp lo supera in 100 metri a largo velocissimo Adrian Chip che lotta subito per sbaglia, sbaglia anche Adrian Chip a metà della piegata e questo toglie un altro motivo di interesse alla corsa, i primi due centri molto slenti in 14 e 1 con a comando il favorito Ivor Font sono saltati prima da Stalover poi Adrian Chip in seconda posizione per Ismos all'esterno si presenta subito combattiva Ido Di Poggio all'argo anche Yuma e Kappa Igor Font è da liberi a girar di fuori c'è Enrico Delei perché gli svedesi ci hanno salutato prematuramente c'è un cross da dietro con il campone a Ibisco ma finisce soltanto con Adrian Chip al tabellino avanti c'è Igor Font che ora ha tutta la parte propria dopo un 29 alle due c'è addirittura sedici e tre mentre Robert Berg non sente la scalifica e va ancora a correre per corsia e impervio da si rivolve in un'altra autora 6 Un minuto e 8 decimi ma non ha capito evidentemente Robert Berg e ora anzi ecco in questo momento ha sentito probabilmente o forse no perché rimane lì quindi in terza ruota dopo un chilometro ancora Dastalover forse sarebbe il caso di ripeterlo nuovamente intanto se ne va il primo chilometro in 1.16 al comando è Igor Font la seconda posizione per Ismos Ft all'esterno senza forzare Ido Di Poggio con il filo all'altra femmina Yuma e Kappa a largo ora rinuncia Adrian Chip mentre in percorsi esterni anche Ido Di Poggio e Dastalover rimesso in coda segue Rosari 1.31 e 2.75 E di gol di Poggio la fa sul serio ma Igor Font va in mano e va comodo in schiena il 5 di gol di Poggio c'è Yuma e Kappa che si trascina anche i disco da dietro c'è anche il ritorno di Dastalover in seconda posizione della corda Ismos Ft dopo un 16 per i 200 metri che se ne vanno verrà fuori una gran frazione ma Giannisci al Brasil sembra avere ancora del buono in mano 14.6 e 36.4 che se ne va curva conclusiva ultimi 400 metri di gara la corsa si accende con Ido Di Poggio all'attacco di Igor Font e fin qui c'è stato non c'è stato gran ritmo ora 14.6 però per l'ultimo numero 10 scuole citato anche contro i 3 di retta d'arrivo cambia decisamente Marce e il battistrada che allunga Ismos Ft che non lascia comunque la presa del finale Igor Font che viene avvicinato ma conserva il vantaggio e vince chiaramente su Ismos Ft al terzo un Ido